Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo qua con il nuovo format della Shoutout Challenge Oggi a fare la sfida c'è il richiestissimo Abra Calaya Eccolo qui ragazzi Sono già sudato ragazzi che ero a fare riscaldamento Quindi sono già pronto per partire Quando iniziamo? Quando iniziamo? Ok, carichissimo Ve l'abbiamo portato a grande richiesta Nick Abra Calaya, il mago Grazie per la richiesta, sottolineo Insomma sei andato a prendere tutta la scena di Youtube Italia Dopo Ayman, ora tocca a te Quanto ti aspetti di fare da questa sfida? Trenta Shoutout lo ricordiamo Sette secondi per concludere in porta Si parte, altezza centrocampo dalla linea rossa Qual è il tuo obiettivo per questa sfida? Il mio obiettivo è puntare a fare almeno dieci gol Dieci gol perché credo che un terzo sia giusto Poi tenendo in considerazione che mi parerà anche il mitico Francesco E quindi non conoscendolo non ci ho mai giocato contro Cioè in realtà ho giocato contro in un torneo estivo E mi ha fatto anche cacciare fuori dal torneo Cioè abbiamo pareggiato un a uno, due volte Due volte ci siamo affrontati Ma pensatevo, pensatevo Vabbè ero svantaggiato perché giocavano su Erba Di solito sono abituato qua L'obiettivo è un terzo E fare almeno appunto come dicevo prima dieci gol Speriamo di fare meglio di Ayman Ma più che altro sul contenuto Dai allora andiamo a vedere come va E vi aspetto dal campo Intanto ricordiamo anche chi c'è oggi Oggi a parlare con me ci sarà anche lui Steve Steve Cacavale Il portiere più forte della Serie B Di Fuzzan Tu me la stai buffando in una maniera Cioè la prossima partita sono sicuro che faccio una stupidaggine incredibile Oggi tra l'altro l'avversario è molto difficile Non abbiamo soltanto Kalaia e basta Abbiamo Kalaia e Super Saiyan È ancora più difficile oggi Più che altro la cosa differente da Ayman E le sue leve lunghe Cioè in allenamento quando mi punta Ho un sacco di difficoltà a recuperare Perché lui fa un passo e ne devo fare tre Poi io sono anche grande puffo Quindi diventa molto complesso recuperare Se allunga la falcata Perché con un passo fa 4 metri È una cosa molto difficile La versione Super Saiyan mi spaventa Però cercheremo di fare il meglio possibile insomma Voglio chiedervi Secondo voi quanti gol concederete ad Abra Kalaia? Più di 10 Guardandolo negli occhi A me personalmente non ne farà più di tre Quindi pareggerà con Ayman E anche non mi fa paura pure se è grosso Vediamo quante fricci scoccherò quest'oggi ragazzi Il mio obiettivo invece è quello di non essere umiliato Già mi è successo un torneo estivo Quest'anno di essere umiliato da Kalaia Che ha fatto la cosa che ha fatto con il Pontevedere Di alzarsi il pallone con entrambi i piedi E poi di calciare E poi lì non è riuscito nel gol Con me c'è riuscito Il problema è che non c'era Robiconti Dietro Robocop a correre a Sargol In quella situazione E intanto andiamo a introdurre anche quello Che è il terzo ospite di giornata Ovvero il Caimano Ayman Maizi Che commenterà con noi in fase di regia quest'oggi Ciao a tutti Ciao a tutti Non vedo l'ora di raccontare le prodezze di Abra Kalaia Ma lo gufferai o fare il tifo per lui? Spero faccia meno di me Solo che visto Conoscendo il giocatore Sono sicuro che farà meglio di me Allora niente Noi possiamo catapultarci all'interno di quest'altra sfida E vedremo quale sarà il risultato Del mago del palazzetto dello sport di baricella Nicola Scalaia Siamo pronti ragazzi E inizia la sfida Eccoci con il primo shout out Da parte di Abra Kalaia L'attenzione è visibile nei suoi occhi Così come in quelli di Frey Che non vuole assolutamente essere omiliato Si appresta al battere Aspetta solamente il mio consenso Che glielo daremo tra pochi attimi 3 2 1 Via Parte ora Il primo shout out Eccolo subito che punta Frey E arriva subito il primo gol E qui Altro gol bellissimo Sì gol bellissimo Tanto per non perdere il vizio Abra Kalaia Che vuole partire a manetta Ha fatto il contrario di quello che ha fatto Ayman Si è spostato la palla a sinistra A destra Ha cercato di non dare i riferimenti al portiere Come ci accennavo precedentemente C'è riuscito Ma andiamo a vedere subito Quello che il secondo tiro C'è a dire che le aspettative sono altissime Adesso le saltano ancora di più 3 2 1 Via Parte ora Di Frey Sta in piedi E arriva anche il secondo gol 2 su 2 Un cecchino È un cecchino Che giocatore 4 secondi Ma cosa ne pensi di questo inizio da parte È partito veramente bene E concentrato E non ha sottovalutato l'avversario Che è Francesco Che è veramente forte 3 2 1 Via Parte ora Nick Che guarda Frey Puoi cercare Eeeh Cosa ha provato qua il mago Adesso punta all'umiliazione addirittura Esatto Punta addirittura all'umiliazione Quella che non voleva correre Frey Insomma ora È un rischio 3 2 1 Via Partito ora E qui Frey bravissimo Ma non è finita E Frey riesce in due tempi A rappionare la sfera 2 su 4 Non male Cosa ne pensate Quali sono i vostri pareri Ah in questa azione È partito È partito velocissimo E Ha sorpreso un po' tutti Era una bellissima idea Ma purtroppo Ha fallito E Francesco è stato veramente bravo La poteva appunto E scartarlo Frey Frey Sono bravo comunque Ad intuire il lato Da cui è andato 3 2 1 Via Parte ora Tutti al portiere Lo guarda Uuu Suo l'attacco Cerca l'umiliazione La voleva Cioè vuole l'umiliazione Nick Beh 2 su 5 Comunque è buona media Ci sta Poi è partito È partito benissimo Poi adesso Un po' leccionismi Ma ci sta Comunque si vede La fantasia L'estro di Abra Calaia Quanta pressione psicologica Metterà il mago A Fabio Di Mauro Nella sfida? Eh sicuramente molta Adesso vediamo Il risultato finale Che sono curioso Adesso c'è lo switch In porta Entra Steve Al posto di Francesco Io credo in te Steve Per me Zero gol Allora andiamo col sesto tiro 3 2 1 Via Quarta ora il mago Che guarda Steve Ebbè Doppio passo Si sposta la palla sul piede forte Non puoi fare null'altro Se non puoi usare in porta Si proprio con una grande facilità Fa sembrare molto facile Fa sembrare molto facile Quindi 6 tiri 3 realizzazioni Andiamo con il settimo Shootout 3 2 1 Via Fabio Ranic Che guarda negli occhi Sti il caccavale Puoi cercare la soluzione Sul destro È il sesto secondo Bravo Quindi prima Che scoccasse il settimo Riesce anche Realizzare il quarto ruolo Ho già fallito Il mio pronostico Steve Mi stai deludendo 3 2 1 Via Ottavo tiro Ma che facilità di calcio Che facilità di calcio Che è il 2002 E molti ci dicono Ma come il 2002 Sembra mio padre Invece Raga è il 2002 Quinto gol Giusto? Si Media altissima Media altissima Oltre il 50% per ora Si tra l'altro Quelli che ha sbagliato Li abbiamo visti Come li ha sbagliati Cioè provando a fare cose difficilissime Ogni volta che ha puntato A fare gol Siccome ci è riuscito Proprio con una facilità incredibile Si sta dimostrando Come le aspettative Sta facendo veramente bene Pensavo un po' peggio Invece Complimento a lui 3 2 1 Via Parte ora Adesso si è allungato un po' troppo Il cucchiaio toco sotto La palla si perde di poco Peccato Peccato The next L'idea era bella Pensiamo alla prossima Pensiamo alla prossima Mentalità Mentalità 3 2 1 Via Parte ora Nick E ora decelera Guarda Steve 5 6 7 Cerca il numeraccio brutale Che non sarebbe valso Perché era già scoccato Il settimo secondo Però ci ha provato Quindi adesso andiamo a sentire Anche Nick Per sentire quello che è il suo feedback Dopo questa prima manche È andata bene È andata bene Sono partito Diciamo Bene Però alla fine Questi primi dieci tiri Mi sono serviti Per studiare Per vedere appunto I miei avversari Come coprono Come difendono la porta Ho avuto difficoltà Con fre Quando lo punto Perché copre bene la porta Invece ho notato Anche che calciando Da fuori Riesco a Concretizzare al meglio Quindi Diciamo che ho provato A fare tiri in diverse maniere Cercare di capire Per i prossimi tiri Studiarmi I portieri che ho contro Intanto Sei a 5 su 10 Nick Ti manca uno Per superare in classifica Il primo posizionato Iman Maizzi Pressione psicologica Pressione psicologica Tanta Tanta Perché finché non si arriva All'obiettivo Non bisogna mai pensare Di essersi O essersi quasi Non esiste Bisogna arrivare E poi si può parlare Quindi le chiacchiere Le lascio dopo Quindi facciamo parlare Il che ha in mano Il commentatore E vediamo che cosa Cosa tira fuori Ora introduciamo i portieri Che ci diranno Quali sono i loro pareri Dopo questi Primi 10 tiri Di Abra Calaya I miei pareri sono Che sapevo che Nick Quando ti punta frontale È una forza della natura Cioè È potente di gambe Quando allunga la falcata È difficile recuperare E soprattutto riesci a mantenere La coordinazione Per tirarti sempre Nell'ultimo angolo Della porta È molto difficile Sto cercando di rimanere In piedi Quanto più possibile Per cercare più Il suo errore Che un mio grande intervento Perché so che se Mi muovo prima Per cercare la parata Spettacolare Mi beffa sicuramente Sei d'accordo? Assolutamente Cioè Penso che alla fine La grande difficoltà Che mi sto trovando È la sua imprevedibilità Non riesco mai a capire Cosa mi sta per fare È sempre pronto Alla sua magia Dal cilindro Quindi Quella è la cosa Veramente difficile È il fatto che È veramente imprevedibile E quindi Adesso andiamo a vedere La seconda serie Gli altri dieci Shot out Vediamo Se continuerà Con questa media O migliorerà Vediamo 3 2 1 Via Parte Nick Torna Francesco In porta Salunga la palla In maniera strana Ma Vabbè Non esiste maniera strana Per il mago Era angolata Però forse ci poteva arrivare Ha detto che è andato Indietro con il corpo Invece forse doveva avanzare Secondo il suo punto di vista Per far vedere Il più specchio della porta 3 2 1 Via Parte ora Sempre Nick Sempre elegante E poi Fre Riesce A impedire L'accesso del pallone in porta Molto bravo qui Fre Sì abbiamo visto Come dice anche Fre La stessa cosa di prima Cioè che Fa fatica a rimanere in piedi Però È sempre molto veloce A rialzarsi E a buttarsi sul lato 3 2 2 1 Via Passi ora Nick Si ferma 4 secondi Non voleva l'umiliazione Scocca la freccia Scocca la freccia del vantaggio Del sorpasso Mette la freccia Come in autostrada Un Ferrari Che supera il Lamborghini Mi dispiace Ayman 7 Per Nick 6 Per Ayman Ma in Anche a metà Via Se allunga tantissimo Qui Fre Voteva uscire E poi va a terra E qui Lo spettacolo Ragazzi Quando vi chiedono Cos'è lo spettacolo Dovete rispondere Abre il cavallo 3 2 1 Via Passi ora Nick Si ferma Mi guarda davanti a sé E poi Fre No Se la tira dentro Praticamente da solo Ed è un vol Che arriva sulla sirena Però è valido 8 su 15 Per continuare Sulla stessa media Adesso ne dovrebbe fare 2 su 5 3 2 1 Via Vai Steve Lo conosci Lo conosci E infatti è così Ma non è finita 5 6 7 E E E Vale Sulla sirena È arrivato A 7 E 0 1 0 2 3 2 1 Via Parte ora Nick Uh Cerca di superare E chi ce la fa E beh E' stato bravissimo Perché è arrivato anche a coprire Ha fatto in tempo a coprire lo specchio Steve Ma è stato bravo a tirare alto Quindi Niente da dire Niente da dire ragazzi 10 Su 17 Penso che sta superando veramente Tutte le aspettative Sia nostre Sia anche Sua Credo che Non si aspettava un rendimento tale 3 2 1 Via Partire il mago Guarda Steve Fa partire Una bordata Che finisce direttamente qui in regia da noi Spero che nei prossimi due tiri Steve Non prenda assolutamente gol Anzi Io credo in te Steve Via 3 2 1 Via Parte ora Si inciampa un po' con la palla in questo caso Abra Calaia Steve para 5 6 Steve in due tempi Mostruoso qua Steve Mostruoso Mostruoso Steve E' stato veramente Veramente bravo a rialzarsi Velocissimo Mostruoso Sì un grandissimo riflesso di Steve Che riesce ad alzare il ginocchio E fa davvero una gran parata Bella la sfida 20 tiri 10 gol Insomma sta ottenendo una media comunque Monster Secondo il mio punto di vista Perché gli shot out sono complicatissimi Sia sotto il punto di vista fisico Sia appunto Nello sfidare il portiere Che ti occupa bene tutta la porta Si ha continuato con la stessa media di prima 50% E' ottimo Sta andando veramente benissimo Poi oltre ai numeri Vediamo proprio la qualità Nel goal Dicci quali sono state le nostre impressioni E' un po' dietro che sei alto Devo fare come fa Ferrante Tranquillo Ti tiro sui Che mi alzo così Comunque E niente Le impressioni sono state che Come ho detto prima Io ho modo di studiare loro Andando avanti con i tiri e shot out Però allo stesso tempo Anche loro hanno modo di studiare me Come abbiamo visto in questa situazione Ho visto degli accorgimenti Rispetto ai primi dieci tiri Sul tiro in cui Ho alzato la palla Girato di spalle Francesco è stato bravissimo A fare un passo indietro Perché se fosse stato vicino Sarebbe stato molto più difficile Steve rimane in piedi E rimane Ha fatto due ottime parate Sull'ultimo mio shot out E niente Quindi vedo miglioramenti Sia dalla loro parte E invece da me Devo dire la verità Noto che è più difficile Comunque Continuare a tirare Essere in forma mentale Provare a fare qualcos'altro E non le solite cose Per provare a variare Perché comunque Tirando costantemente Avendo davanti Lo stesso portiere E facendo molteplici tiri Diviene difficile Trovare nuove soluzioni Quindi devo fare i complimenti Ai portieri Andiamo a sentire Anche i due portieroni Insomma Com'è andata Questa seconda mancia Ti abbiamo visto Super reattivo Hai sofferto un pochettino Magari rispetto alla prima Perché comunque I cambi di direzione di Nick Nonostante le leve lunghe Sono allucinanti Secondo me Trovare un giocatore Della sua statura Che riesce a essere così agile È davvero difficile È anche tecnico È anche tecnico È tecnico agile C'è un giocatore completo Atleticamente E tecnicamente Quindi non è semplice Poi ha provato a beffarmi Che è partito Senza il via Con un via a metà Cioè poi c'è C'era il via Non ho detto 3-1 Poi anche il gol sul VAR Non lo so Dubbi 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 Uno stivo polemico Potevo fare qualcosina di più Forse su Il secondo gol Che ha fatto Che è riuscito a scartarmi Ho recuperato la porta Ho scelto di andare Di rimanere comunque Abbastanza in piedi Andando in croce Forse col tuffo Però lì ho cercato Di prendere più porta possibile Chiudendo le gambe Perché il tunnel è sempre Diciamola Il rischio Il rischio più pericoloso Su una situazione In cui sei in corsa Quali sono state invece Le tue impressioni Dopo questa seconda manche Come sei andato Cosa ti ha creato più difficoltà E cosa invece Hai aggiustato Rispetto alla prima serie di tiri No penso che più o meno Siamo andati come i primi dieci Cioè è sempre molto imprevedibile Ho qualche gol sulla coscienza Sicuramente Secondo me Potevo sicuramente Concedergli meno gol Di quelli che poi ho concesso Quindi il resto degli ultimi tiri Sicuramente È importante che sia sul pezzo Che lo tema anche un po' meno Perché C'è un po' questa cosa Di inconscio Di non so cosa sta per fare E quindi un pochino Tento a temerlo Però è tanta roba È veramente molto difficile da leggere Quindi andiamo dentro Con l'ultima manche Tutto pronto per la terza manche Quindi Andiamo a vedere Riparte Frey in porta Abracalaia 3 Abracalaia 2 Abracalaia 1 Abracalaia vai Partitola Frey perché va così giù Perché va così giù E poi scivolata Riesce Aprire nel miglior dei modi Questo gol Ma Frey Cosa stava cercando I soldi per terra Ah Come direbbe Ragnar Il dolore è solo mentale Travo lì Che sulla riga Ci ho provato fino alla fine Poi al fine appunto Sulla riga Ha segnato Eh sì Proprio alla fine Quando nessuno se l'aspettava Ma adesso andiamo a vedere Il ventiduesimo tiro 3 2 1 Via Parte ora Nick Che guarda Francesco fisso negli occhi E poi piazza Un bolide ad aprire Possiamo dire che Mi ha raddoppiato ufficialmente 3 2 1 Via Parte ora Francesco per il riscatto Calaia per chiuderla La quadra rimane lì Francesco la rpiona Con entrambe le manone Sì però anche in questo caso Sempre ad andare giù Sì sì Stavolta è andata bene Però secondo me Se avessi fatto un'altra finta Nico Comunque se avessi creato alto Avrebbe sicuramente segnato 3 2 1 Via Spacca Che bomba che ha tirato Ha spostato la porta di 20 cm Che sassata Da parte di Nick 3 2 1 Via Parte Nick Sempre contro Fred E Qua è stato bravo Nick E' stato bravo anche Fred Stavolta è riuscito bene a chiudere Ha chiuso bene lo specchio Ha tirato basso E' quasi andato in mezzo alle gambe Invece con il piede dietro riuscito a prenderlo Quindi bravo Fred Davanti Nick Vediamo se ne fa 3 su 5 Per mantenere il 50% Dove è 6 contraddistinte in questa challenge Col 50% Una retta costante 3 2 1 Via Come on Abra Karaya contro Steve Lo punta La suona Ma sul destro E poi sul sinistro 5 e 6 Ed è valido Ed è valido Ed è valido Sì sì Ha fatto gol Steve a 6 e 80 3 2 1 Via Parte ora Subito velocissimo Accorcia tantissimo le distanze E poi tocca Non so se con la mano Col piede sinistro Steve Come hai toccato Piede sinistro Ti sto bene Neutralizza l'intervento 3 2 1 Via Parte ora Nick Che sfida Steve Che sta in piedi fino all'ultimo Tocca con la punta Delle dita Bravissimo comunque Steve Gli ha dato un po' di strike Che infatti anche toccandola Non è riuscito Però comunque È difficile restare lì dietro All'asso fa L'hai spostata Realmente è difficile restare lì dietro Comunque Bravo Steve Ha ristabilito la parità totalitaria 14 28 3 2 1 Via Parte ora Nick Steve sta in piedi Lo guarda Fisso negli occhi Poi si sposta la palla sul destro Steve Ma non è finita 6 Ancora Steve E finisce qui 29 14 Qualora segnasse Pareggerebbe definitivamente i conti E sarebbe sì al 50% Quello che volevi ottenere tu prima 50% Che secondo me non raggiungerà Perché Steve In questa ultima Secondo me non raggiungerà il 50% Forza Steve 3 2 1 Via Parte ora Nick Steve La concentrazione di Steve E cerca La palla rimane lì 6 7 E no Perde tutto Il Penguin Vince Ayman Maizzi 14 su 30 No comunque Tutto sommato è andato veramente Veramente bene 14 su 30 Un risultato veramente incredibile Complimenti ad Abra Kralia Ci ho provato Mi dispiace che stavo sperando Nel 50% Comunque è stato bravissimo Come hai detto prima Oltre alla quantità di gol Si vede alla qualità Ed è stato veramente bravissimo Grazie a tutti ragazzi Grazie a voi Principalmente per avermi fatto Partecipare a questo video Ho cercato Oltre a sì A cercare di fare il massimo Dei gol Che ci ho provato Ma anche a provare a mettere Qualcosa in più Per creare un po' più contenuto Diciamo E l'ultimo shootout Ho visto che come dicevo Dopo la seconda pausa Che loro hanno cominciato A prendere più consapevolezza Di loro stessi Vedere le mie giocate Comunque non ho un roster così ampio Anche se provo a fare il più possibile Non tutto mi viene al meglio Loro sono stati bravissimi A stare lì sul pezzo Ad analizzare Il modo in cui le affrontavo Nel precedenti tiri Infatti Francesco È stato bravo A capire La caratteristica principale Di questo esercizio Riuscire a coordinare Il tempo Con il movimento del corpo E la parata In che modo Lui è riuscito A mettermi in difficoltà Rimanendo fino a 5 secondi Circa in piedi Poi coprendo Con tutto il corpo O la sagoma Nel sesto secondo Così io Se avessi voluto Magari spostare la palla Per andare a calzare Non sarei riuscito Non avevo più tempo Quindi questa qua È la cosa da tenere in considerazione Per chi in futuro Verrà a fare questa challenge Allora adesso Andiamo a sentire i portieri Ovviamente è stata una challenge Difficile per i portieri Cosa ne pensate Alla fine Della challenge Sì è stata una challenge Molto difficile Anche a livello fisico Perché comunque Calaia ti tiene A ritmi molto alti Se posso dare un consiglio Ai giovani portieri Che ci stanno guardando Magari la parata più difficile Che mi ha fatto fare È stata per assurdo Quella magari più brutta Cioè quella che Sono rimasto in piedi E basta Ho chiuso le gambe E con lui Mi ha provato a tirare In mezzo alle gambe Perché oramai il tempo era finito E sono riuscito Con la parte sinistra Del polpaccio A comunque fare qualcosa E a deviare il pallone E non è una parata semplice A livello mentale Non tanto a livello fisico Perché comunque Non è impegnativo A livello di atletismo Ma devi rimanere lì E non è per niente semplice Con un giocatore Che non sai mai Cosa ti può fare Dunque cercate di rimanere in piedi Cercate di guardare solo il pallone E non i piedi Del vostro avversario E non farvi soverchiare mentalmente Dalla sua preponderanza fisica Soverchiare Steve Caccavale È un insegnante Quanto se la sbona Ho detto veramente super chiare Non lo sentivo dal 95 Lasciate un like se volete Steve Caccavale Come prof di lezioni private D'italiano Sì abbiamo sentito anche Il parere di Nick Non so se l'hai sentito Sul fatto che tu Sfruttavi bene i secondi In modo da farlo andare oltre Cosa ne pensi Che questa cosa era voluta Non lo so neanche io Penso che forse A volte era proprio istintivo Altre volte invece Sapevo che comunque Non poteva più farmi delle finte Doveva chiudere lì l'azione Quindi a volte aveva senso Comunque si si è comportato bene Non ha soverchiato Non ha soverchiato Le mie aspettative È andato molto bene Bravo lui Comunque Siamo arrivati Quindi alla conclusione Di questo video Vi ricordiamo ovviamente Sempre di lasciare like Condividere Seguirci su tutte le piattaforme Attivate la campanella E ci vediamo al prossimo video E soprattutto Iscrivetevi al canale Ovviamente ringraziamo Abra Calaia Per la partecipazione In questa showtout challenge Grazie mille Mago Grazie mille a voi ragazzi Al prossimo video Ragazzi Se oltre a seguire noi Seguite anche il mago Abra Calaia Come ti chiami su Instagram? Nicolas Calaia Con la cap Vabbè Comunque ci sarà scritto In descrizione il nome Vi ringrazio E se volete guardare Anche qualche altra challenge Guardate nel profilo Instagram Ciao Ciao